Ora per Albertini, dentro, un pallone per Massaro, e il gol! Vai Providenza, gol di Massaro! Massaro sblocca la situazione dopo due minuti del secondo tempo. Gran gol di Massaro! Eccolo festeggiato dai compagni Albertini, in verticale, inserimento. Il gol prepotente di Massaro che arresta, ripeto, si coordina, non lascia scampo a Campos, gol di Massaro. Rodriguez che batte questo tiro dalla bandierina, pericolosissimo, è messo poi fuori dalla parte opposta proprio da Massaro. Giù Albertini ora, dentro, a cercare lo scatto di Signori, Signori, converge Signori, palla per Dino, è giù in area! E forse c'era, e stavolta, il calcio di rigore, l'arbitro facendo Dino. Buona la difesa dei nostri, l'impallo però è pericoloso, al limite dell'area, attenzione, Ermosiglio. Fuori, la possibilità di tiro e il gol da parte di Bernal. Ha segnato Bernal, uno a uno. Al dodicesimo del secondo tempo, Bernal ristabilisce le distante, uno a uno. E ora, perdurando, rivediamo, e vedete che manca, Signori, il pallone, il pallone che arriva a Bernal, il cui destro, vedete, si infila proprio sul paletto del cambio. Entra Donadoni, ed esce.